ma ciao a tutti ragazzi mi vedete rilassato sorridente felice beh direi di sì per due cose la prima perché la cremo vinto e la seconda guardate dove mi trovo che spettacolo sei cose velocissime e poi vi lascio la prima lasciate un bel like ragazzi un commento un'iscrizione al canale per il fatto che vi porto contenuti anche qua dall'egitto apprezzate questa cosa la seconda grandissima prestazione della cremonese che accorcia in classifica nonostante il parma abbia vinto il catanzaro sta vincendo ma il venezia e il como frenano quindi la cremo ne approfitta e accorcia in classifica la terza purtroppo coda non si è ancora sbloccato non si sblocca fa fatica ultimamente fa un po di fatica ma sono sicuro che prima o poi ritornerà al gol la quarta la cremonese ci conferma la super migliore difesa del campionato cosa molto molto importante la quinta porto sfiga ragazzi perché ogni volta che noi ci sono la cremo vince stra vince straconvince e 3-0 allo spezia e 4-0 oggi a posto così non vengo più la sesta davos grigio rosso augura a tutti voi un buon natale un buon santo stefano e ci si rivede a santo stefano con palermo cremonese ragazzi forza cremo dai che ci siamo un saluto da charm